Per difendere il bestiame dai lupi, basta mettere qualche cucciolo qualsiasi in mezzo agli animali o servono soggetti particolarmente indicati. Ci sono delle razze migliori di altre o anche i meticci possono andare bene. Ciao, sono Ezio Maria Romano, il presidente della Federazione Italiana Cani da Guardia e il fondatore del CISCAL, il centro italiano di selezione cani antiluco. Sono ormai tanti anni che aiuto i pastori per risolvere il problema delle predazioni. Metti un mi piace su questa mia pagina, ma specialmente vai su questo link che ti ho allegato dove potrai scaricarti il manuale gratuito per conoscere meglio il cane da guardiania antiluco. Ti aspetto, ciao, a presto!